mi serve un'altra pausa nazionale per smaltire questa partita qua che fatica che fatica la peggior juve stagionale stop credo che stasera sia stata la peggior juve stagionale e no non è stata una partita da zero a zero attenzione partendo a questo presupposto non è stata una partita da zero a zero perché la juve le occasioni per fare gol le ha avute nel primo tempo con gatti che in quella posizione fa il difensore non fa il difensore che deve attaccare fa il difensore che deve difendere memoria muscolare dei gatti la spazza sopra la traversa avlavic che becca la traversa su quel tiro da fuori aria mi pare di kefra enturam con la palla che rimbalza sul braccio di ghila che ovviamente non è rigore perché prima becca una parte del corpo ed usano becca la traversa quando dico che vlaovic deve migliorare nei gol facili dico questa roba qui non può essere sempre il giocatore che fa solo i gol difficili bisogna fare anche questi gol qui bisogna sentire l'area di rigore dusan vlaovic deve imparare a sentire l'area di rigore douglas luis quel colpo di testa che va alato le occasioni avevo le avute e attenzione questa sera la juventus ragazzi aveva un uomo in più ma non si è mai visto questo è il problema e no rispondo subito non è un lamentarsi senza godersi la vittoria perché la vittoria me la godo tantissimo perché questa partita avevo paura che potesse essere un brutto risultato per via delle assenze degli infortunati del ritorno alla pausa nazionale eccetera eccetera avevo una paura folle di questa partita folle quindi averla vinta per me è meraviglioso però ieri tiago motta ce l'ha spiegato che per lui c'è la prestazione e la prestazione va di pari passo con il risultato fai una bella prestazione raggiungi un ottimo risultato io sono convinto che nella partita nella concezione di tiago motta questa possa essere stata una buona partita per via del dominio che ha avuto del pallone perché tiago motta ce l'ha detto anche quando aveva vinto col psv non gli era piaciuta la gestione del pallone della juventus la juventus ha subito un po' troppo il gioco del psv però noi stiamo facendo un tipo di approccio al gioco che questa sera con un uomo in più è sembrato di non avere un uomo in più complice anche il fatto che l'alassio abbia fatto una gran partita l'ho detta male in un italiano pessimo però l'alassio ha giocato molto bene l'alassio ha fatto una partita incredibile già quando erano 11 contro 11 loro avevano pensato molto bene a chiudere gli spazi la juventus che partiva da dietro perché sappiamo che la juve ama ad ora partire da dietro e venivano con di a a schermare locatelli castellano si è in mezzo ai nostri due centrali caluro e gatti isaxen su cabal e zaccagni su savona con quei quattro giocatori ce ne chiudevano cinque e mezzo perché inseriscono anche di gregorio e quindi schermato locatelli schermati due centrali schermati terzini obbligavi le mezze ali ad abbassarsi ma le mezze ali della juventus douglas luiz e turama arrivavano sempre spalla alla porta e dovevano soltanto scaricare il pallone e la juventus non aveva mai 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 la possibilità di circolare la palla al meglio quindi io voglio veramente fare i complimenti all'alassio perché ha fatto una gran partita e credo che anche con un uomo in meno l'alassio abbia giocato un ottimo match poi è ovvio che l'alassio non avrebbe meritato di vincere questa gara ci mancherebbe altro l'alassio non ha mai avuto occasioni la juventus continua a difendere molto bene la juventus continua questo trend in cui mi pare otto partite di serie a ha subito soltanto un gol tra l'altro su rigore quindi da quel punto di vista la juve un fortino e questa è la cosa migliore che ci portiamo a casa da questo inizio di stagione un campionato in assoluto questa è una cosa da non sottovalutare anzi questa è una cosa molto bella è una cosa eccezionale eccellente un quasi un vanto per la juve per il resto vi dico che non mi è sembrato di vedere una squadra in 11 contro una squadra in 10 perché la juve ripeto le occasioni le ha avute non era una partita da 0 a 0 era una partita secondo me da 1 a 0 è giusto l'1 a 0 per me è giustissimo il risultato di 1 a 0 per la juve la juve ha meritato di vincere questa partita perché ha difeso bene ha avuto le occasioni se ne mangiate tante se ne mangiate tante e quelle occasioni che secondo me sono comunque poche perché non sono state tantissime sono avvenute con un nome in più perché se fossero state quattro macro occasioni perché stiamo parlando di quattro macro occasioni in 11 contro 11 vi dico e beh hai creato quattro giga palle goal in parità numerica va benissimo così quello che mi preoccupa è il fatto che tu ne hai creato soltanto quattro in super realtà numerica per tutto un tempo e metà del primo attenzione va benissimo così per il momento perché la juventus dopo tre mesi due mesi che ha iniziato la serie a che ha cambiato tutto e sono tutti i discorsi che ben già fatto mille volte e che si ritrova in una situazione di emergenza come questa post pausa nazionale con la panchina cortissima tant'è che siamo costretti a far fare l'esordio astic che ancora non aveva mai visto il campo tra l'altro si è mosso anche secondo me abbastanza bene la juventus che vince la partita ottimo a maggior ragione dopo questa pareggita acuta che stava circolando nell'aria però dato che ieri abbiamo parlato dei progressi delle partite delle migliorie delle partite delle prestazioni della juve per arrivare al risultato non possiamo fare altro oggi che evidenziare che la juventus non abbia fatto una bella partita e credo che questo sia davvero un dato di fatto poi nell'emergenza va benissimo così e da domani inizieremo a pensare alla champions dove siamo messi molto bene vincere stasera è stato fondamentale perché anche il milan ha vinto una partita di sofferenza contro l'udinese che dove ha giocato praticamente anche il milan tutto il tempo con un uomo in meno se iniziamo a tenerci lontani anche quelli che arrivano da dietro è meglio se iniziamo a sperare che possano inciampare quelli davanti meglio ancora anche perché la prossima serie è l'inter attenzione la prossima serie è l'inter per questo vi dico questi tre punti sono fondamentali danno respiro la juventus che non vinceva in casa in campionato da juve como probabilmente l'ultima vittoria la juventus in casa in campionato è stato juve como quindi ottimo però ci sono ancora troppe cose da migliorare troppe cose da sistemare perché nel primo tempo finché siamo stati in parità numerica la juventus ha fatto una bella uscita palla ed è stato proprio in occasione dell'espulsione per questo io sto continuando a dire la prestazione e il risultato come sta dicendo Tiago Motta perché è l'unica volta che abbiamo fatto un'ottima giocata nel primo tempo siamo andati a guadagnarci un vantaggio è stato un vantaggio che ci ha permesso poi di vincere la partita è stato quel vantaggio lì è stata quell'azione lì è stata quell'uscita lì è stato perché abbiamo mosso bene il pallone sfruttato bene gli spassi i tempi siamo stati molto bravi in questo da Klasovic che gioca bene la palla di prima Vlaovic che gioca bene la palla in verticale Calullo che fa una roba allucinante nel difensore centrale meraviglioso e posso dire bene l'arbitro da questo punto di vista perché se c'è una cosa che io continuo a dire sempre è fate giocare se non siete sicuri tanto poi c'è il VAR infatti l'arbitro ha lasciato giocare tra i fischi dello stadium che sono logici ci mancherebbe altro succede una roba a un tuo giocatore pensi che sia fallo da ultimo uomo è ovvio che lo è stato fischio però l'arbitro con personalità ha lasciato giocare e poi è intervenuto il VAR e l'arbitro è andato a vederlo questa è stata la cosa bella che finalmente gli arbitri si assumono la responsabilità se sbagliano sbagliano loro lascio giocare mi chiamano al VAR può esserci dubbio me lo vado a vedere questa secondo me è la cosa giusta è il protocollo corretto di utilizzare il VAR che deve essere un supporto un assistente per l'arbitro non il game changer della partita che toglie la possibilità e il potere all'arbitro molto bene oltre a Lulu Cabal che era dentro la naftalina appunto dalla partita tra Juventus e Roma finita per 0 a 0 è proprio lui che serve l'assist vincente Aguila che svirgola dentro la sua porta dopo che la Juve di quelle palle ne aveva avute io credo un centinaio davvero un centinaio di palloni di quel tipo la Juventus cerca sempre di entrare dall'esterno di mettere dietro quei cross cerca sempre di mettere quel pallone a rimorchio e meno male che a cinque minuti dalla fine ci siamo riusciti in maniera definitiva e meno male che in quel frangente la palla è entrata perché sarebbe stato molto complicato poi negli ultimi cinque minuti costruire altre azioni pericolose perché la Lazio dopo uno sforzo incredibile la partita di sforzo che aveva fatto praticamente da metà primo tempo aveva iniziato a perdere un po' di tempo ovviamente a buttarsi per terra cercare di respirare di far passare il cronometro sarebbe stata una partita molto 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 complicata la Juve fatica quando gli avversari si mettono dietro e chiudono a maggior ragione poi la Lazio quando aveva un uomo in meno ha dovuto fare quello e noi dobbiamo migliorare a questo punto di vista dobbiamo tirare di più questo è un dato rifatto la Juventus non può chiudere i primi 70 minuti con un tiro in porta questa è una cosa che non può avvenire a maggior ragione con un uomo in più quindi queste sono le cose che una vittoria importantissima e fondamentale come quella di oggi ci deve lasciare bene l'hai vinta bene i tre punti bene questa volta gli episodi che invece ti avevano punito col Cagliari però ricordati che si può fare di meglio che si possano sfruttare meglio determinate cose io gli ultimi minuti sono stato molto nervoso perché vedevo la Juve anche sbagliare alcune cose sulle uscite e non possiamo permetterci di fare queste cose io non può permettersi in questo momento qua di sbagliare le cose banali e facili perché questa è la cosa che che un po mi da noia di questa squadra che se vado a pensare a tutte le cose che mi hanno dato più noia sono state tutte cose facili tutti i gol facili il gol di Vlaovic con con il Cagliari il gol di Vlaovic stasera ovviamente che non sono stati fatti l'errore di Douglas Lewis in occasione del regolore del Cagliari sono state tutte delle banalità delle disattenzioni dei dettagli no delle cose facili facili invece il grosso la Juve lo sa fare sul facile fa problema è stata sembrata quasi più un'impresa accettabile rimontare con l'uomo in meno il Lipsy in Champions che fare l'autogol alla Lazio con la Lazio in 10 cioè mi sembra che questa squadra sulle cose facili faccia più fatiche e sulle cose complicate invece faccia meglio è un paradosso ma non può essere così assolutamente è facile per definizione facile difficile difficile su questo dobbiamo migliorare cento per cento quindi gotiamoci questi tre punti che sono proprio un'apertura di finestra dopo una settimana di distanza chiusa perché in questi mettiamo dentro anche i punti col Cagliari perché questi tre punti sono importanti nella situazione di emergenza non dico che vada a bilanciare quella col Cagliari perché non è così perché potevano essere sei tranquillamente però questa era tosta e averla vinta importantissima all'interno di una prestazione che come dicevi in apertura per me è stata la peggiore di questo inizio di stagione fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti ciao ragazzi